in tutto i tuoi vestiti al killer che siccome gli pia non mi picchiare guarda che poi controllo se mai pagaglia aiuto pagatissimo mi sono scavato ok sono fuori no stre ma cosa c'è levati da sopra con sta barca grassa aspetta che l'hai robata ma ecco ho fatto bene non ti permettere più di invadere guarda che costa ti saccagno non invadere mai più il mio business di barche ti è chiaro guarda che posso diventare molto cattivo ti faccio un paio di scarpe di cemento andiamo sempre noi no 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 questa volta sarà diverso apro il primo dai ma cos'è dai ma allora ma ma ti ho spaccatissimo ma spaccatissimo anche a me scusa spingiamolo di giù perché altrimenti c'è uno zombie di pizza ma gigante cioè ma chi è questo qua questa è sorella dai ma non è possibile scusa come c'è dai no andiamo da loro perché fermati un attimo non è possibile scusate scusate mi è spazzata sorella di non lo so cioè uno zombie gigante di pizza non lo so di giorgio sarà mi sta distruggendo ti aiuto io te la butto giù no ma sono messo te ne vanno a calmare altrimenti eliminiamo un 40 morti e beh è finita beh sono molto per aiutare magari cade no no calmiamoci con calma adesso lo eliminiamo un attimino bisogna avere pazienza allora qualcuno deve avvicinarsi da dietro e spingerlo ok per favore bene molto importante lo distrago io lo distrago tu lo spingi spingi sto coso spingi non posso perché c'è la bedrock sotto di te è altissimo allora io mi butto e tu lo spingi va bene no aspetta lo sto uccidendo lo sto uccidendo lo stai uccidendo aspetta vai 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 forza adesso forza adesso picconalo fagli male no ragazzi ma chi è questo qua ma chi è il figlio di Hulk cioè è una cosa incredibile allora ce ne riandiamo grazie arrivederci mamma mia è però è troppo difficile cioè ma io c'ho paura è un altro ma che cacchio ma non è possibile scusami è c'è qualcosa che non va mi sembra via via allora questa volta beh io non ho pietà non me ne frega niente ti giuro che guarda aspetta che era sul bordo era sul bordo lo sporcaccione sporcaccione sul bordo mamma mia ancora sul bordo ma non è possibile mollori sei da solo sei morto tu sei morto come sarebbe sei da solo contro Anna perché sono da solo Anna mi ha pizzato Anna ti ha pizzato aspetta che ci fanno sto cercando di ammazzare Anna è morta Anna nooo è sparita come so simile hai vinto hai vinto hai vinto hai vinto ma sei scomparsa scusa ma mi sembra sospetta questa vittoria e poi anche l'esplosione non è così forte come si potrebbe pensare qualcosa mi stava entrando nel sederino attento attento aspetta no mio dio ok va tutto bene ricordatevi avete il medikit eh avete il medikit c'è dell'acqua azzurrissima lì sotto ho visto visto venite con me allora ascoltate giorgio tu hai l'uccellone eh sì ce l'ho questa serie è piena di volatili ok quindi se hai l'uccellazzo possiamo volare aspetta 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 un attimo un attimo fatemi lì ammazzare no troppo aspetta è tutto bene curiamoci di nuovo se avete bisogno ok allora prima di tutto mantenete la calma perché mi girano le palle ok la nonnina è qui e adesso la nonnina vuole sturare i vostri culini mi piacciono i culini ma descrivi la zona stai zitto topo ti sturo allora dove si è quello di giorgio vero no ma è indifferente è tutto a me alla nonna non dispiace niente ma alex c'è perché scusate ma è morta ma cos'è non lo so tua sorella non lo so ma io avevo cliccato un'altra parola tocca a me che ti devo dire ho messo mi piace adesso porca miseria guarda se stai disegnando una banana silenzio ricordatemi di vi pare che prima ho detto una brutta cosa ma non posso muovermi sa dove ti sei infilato è nel cessello guarda che cretino aspetta che abbasso l'audio perché veramente non posso uscire sei veramente un topo ma cosa ci fai non lo so aspetta togliamo la musica vieni che bullizziamo giorgio dove sei è qui sei uno scemo 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 allora prima di tutto facciamo venire il giorno cantiamo la canzone del mattino alex vieni con me benissimo adesso che hai consumato le ultime corde vocali che ti erano rimaste puoi continuare a stare con noi questa notte siamo stati assaltati tu perché avevi un coso lungo in mano cosa è la mia mazza questa no non va bene alex non alex alex cosa sta succedendo io ho visto alex sconferire della nebbia perché non vedo niente ma da giorgio scusa quanto hai di render distance due ma per non fare laggare la corda di scusa quale ho trovato quale metti tutti qui qui aspetta un attimo aspetta vi ammazzo io ho trovato un buco schifoso è il culo di un girante il culio volevo dire andiamo andiamo aspetta fuori 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 cico aspettate gli faccio una telefonata perché ultimamente non si sa mai pronto cico cito ballerito nonna sono lion non sono tua nonna ma come va nonna come fa io non vado tanto bene qui non va ma cico ha bevuto mi sa c'era tipo di stai chiamando nonna non hai capito non hai capito nonna non hai capito aspetta ho forza capito sei in pericolo nipotino non ne sta facendo un panino al certo punto no no non è in pericolo aspetta forse ha voglia di scherzare o riattacca o riattacca ha detto che l'impanatura si è svuotata su di lui aspetta allora lo richiamo pronto cico cico sono nonna sono sempre la nonna dimmi tutto nepotino dimmi tutto mi sono stato impanato aiuto sei stato impanato cosa vuol dire ditti voi bestie io lo so cosa vuol dire l'ho colto sotto l'ala ti ha colto sotto l'ala è la cicogna si ti sta fecondando no non così secondo me si non devi imbarazzarti di dirlo non ti devi imbarazzare perché sono cose che possono capitare a tutti alex tipo non è più lo stesso allora ascoltami in che modo possiamo aiutarti prima che accada sono nello stesso posto dell'altra volta capito sono lì sono lì ok va bene ho capito tutto amico mio non ti devi preoccupare neanche un po' la squadra dei piccioni arriverà salva ciao 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 non ti facciamo stuora stai zitto che non sai neanche due parole una presso all'altra adesso mi sto arrabbiando ok va bene allora adesso che siamo tutti insieme ok possiamo procedere a scavare l'ossidiana ok cico per favore un po' di contegno che sta facendo quel cretino alex mi sta proteggendo eh fai bene perché io ti sto per ammazzare però state fermi che io stavo un po' di ossidiana adesso abbiamo un momento in famiglia no molto amichevole molto delicato qualcuno mette una torcia fermi ecco bravo bravo stai zitto al vai sicuro allora dobbiamo mantenere la calma perché altrimenti qua morì ammazzati qualcuno eh vedi vedi che in questa serie io vi c'è vi mal sopporto proprio non so prego aaaah non mi mangiare nelle orecchie ah eh scusami scusami la vera domanda è questa ma dov'è che ci sopporti perché avete tolto le torce poi così di modo buio ma chi è lo schifoso non io allora adesso ti spiego una cosa basilare se nel video mi togli la luce non si vede un cacchio dai ragione la priorità prima io via ma no non esiste cioè oggi siamo partiti anche calmi poi dopo no di stare zitto ma va no perché non ti posso credere stai zitto che sei un Alex guarda veramente io non ti sono mamma mia guarda il giorno porca miseria guarda mamma mia ti ti auguro di sposarti con un faccoce no vabbè ancora che borbotti ma cosa sei ma sei un topo ma che schifo non pigli la mano ma che spara oh e Anna c'ha qualche non so cinque minuti hopla eh si allora adesso tu adesso tu esci dalla porta ti scusa lascio la penza in mano ecco la penza in mano ti brucio lurido amico dell'intruso adesso esci dalla porta principale esci dalla ti scusi per aver borbottato e non lo fai più vediamo aspetta che ho sbagliato codice ecco mettilo bene bravo salve mi scuso umilmente hai preso anche la scossa bene adesso possiamo andare a dormire ognuno cosa c'è l'aiul l'aiul lì 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 di fronte di fronte cosa hai visto oh l'aiul che c'è stre stre lascialo fare lascialo fare stre come lascialo fare non ti uccide stre lascialo fare praticamente ho venduto i vestiti di stre al killer ci ha dato 600 euro stai scherzo te l'ho detto un botto di soldi stre oh stre mutanda ma che è successo oh mio dio ti devo dire aspetta oh mio dio ne parliamo un mattino non stare alla finestra e la luce arriverà il giorno bello un giorno bello sarà ecco qua ci vediamo in strada stre tanto c'è caldo ma che è successo la mia porta buongiorno nascia a stare buongiorno ma perché fa così freddo buongiorno allora oh mio dio ma che è successo belle mutandine comunque stre un attimo no vieni qua vieni qua allora devi sapere che non è vero che abbiamo guadagnato 600 euro raccogliendo le more cioè sarebbe stato anche impossibile cosa hai fatto ho venduto i tuoi vestiti al killer che siccome gli piace non mi picchiare veramente come asi stre mamma mia ma da dove parla c'è un elicottero adesso ti sturro la e vabbè esploso l'elicottero mamma mia te lo